Ciao, oggi siamo andati a vedere i nuovi prodotti di Logitech. Lasciamo parlare le immagini e soprattutto gli detti lavori. A dopo. I temi di quest'anno principali hanno tutto a che fare con l'aspetto di rimuovere delle barriere, degli ostacoli per l'utilizzatore. Ad esempio ostacoli di semplicità, ostacoli di mobilità, ostacoli di comfort. Quindi i nostri prodotti si sviluppano in questo senso. Ad esempio. Uno degli ostacoli più importanti è per l'utilizzatore l'utilizzo del mouse dappertutto. Dappertutto vuol dire poter utilizzare anche sul vetro. Abbiamo dunque due proposte che sono il Performance Mouse MX e il Anywhere Mouse MX, VX, che con la tecnologia Darking riescono veramente a funzionare su il vetro. L'altro ostacolo è quello della mobilità. Tipicamente oggi sappiamo che possiamo usare un mini ricevitore come questo, un nano ricevitore, però siamo limitati a utilizzare due soli apparecchi periferiche con questo ricevitore. Oggi con Unifying possiamo estendere questa possibilità, essere molto più mobili, perché possiamo usare questo ricevitore a casa, con una tastiera esterna e un mouse esterno, e possiamo fare anche questa cosa in ufficio. E quando ci spostiamo da casa all'ufficio, semplicemente queste periferiche sono immediatamente riconosciute perché sono collegate con un solo e unico ricevitore. Allora, grande novità di quest'anno, abbiamo deciso di espandere la nostra gamma di prodotti Squeezebox, che rappresentano un modo di avere accesso completamente libero a tutto il contenuto musicale senza l'utilizzo del PC. Questi apparecchi si connettano automaticamente a internet senza cavi e permettono di accedere a tutta la vostra musica mp3, a tutti i vostri brani, a tutte le radio internet del mondo praticamente, oppure a servizi specializzati come quelli di Last FM, come quelli di Pandora, Rhapsody, senza magari entrare nei dettagli. Facebook Radio è questa nuova giunta alla linda di prodotti, un prodotto molto compatto, mobile, che ha un display a colori, che vi permette di mostrare ad esempio la copertina di ogni brano che ascoltate. Per qualsiasi informazione, una bella mail, presschiocciotecnonopercase.com e noi vi rispondiamo. Ciao!